Il Consiglio regionale Piemonte è in prima linea a sostegno dei volontari ed è grato alle volontarie e volontari piemontesi che con il loro apporto quotidiano danno risposte di qualità, di professionalità e soprattutto di grande umanità appunto a chi ha bisogno, a chi in questo momento di crisi economica e non solo, anche di crisi valoriale ha più bisogno. Grazie di cuore e soprattutto complimenti ai volontari perché hanno dei tempi di reazione e una velocità di azione che dovrebbe essere di esempio anche per l'istituzione e per chi lo fa di professione. Così il Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo al Centro Incontri della Regione Piemonte di Torino ha aperto la settima giornata regionale del volontariato dedicata quest'anno al tema volontari, protagonisti per il bene comune. Siamo qui per dare una svolta al nostro rapporto volontariato-istituzioni. Vogliamo lavorare con le istituzioni, essere propositivi, lavorare per rimuovere le cause della povertà ma anche per accompagnare chi è in situazioni di disagio. Costruire insieme come protagonisti il bene comune, rendendo anche il volontariato non subarterno, non una supplenza, ma un protagonista e rendere la Regione e le istituzioni anche portatori di speranza. Il volontariato in questo periodo storico particolarmente complesso ha un ruolo forte di capacità di creare interconnessioni tra le istituzioni, le varie sue forze interne, la società civile per creare con corresponsabilità e con stile di alleanze delle progettualità capaci di aiutare le persone a ritrovare la speranza, di ritrovare nella società una capacità di reimpostarsi e nel dare un'apertura per il futuro.